Buongiorno, vorrei illustrarvi le caratteristiche dei materiali più recenti adoperati per le vele da crociera avanzata. Si parla sempre di tessuto di dacrono, ma si parla di tessuto di dacrono rinforzato da reticoli supplementari di filato. Questi fanno sì che pur avendo un materiale molto croceristico, si abbia anche un risultato tecnologicamente avanzato per cui le vele diventino più performanti. Come si può vedere ci sono due tipi di retinatura, il retino che si vede è un filo supplementare che aumenta la resistenza del materiale. Grazie.